salve ragazzi in questo filmato dedicato alla tecnologia vi parlerò di attrezzi per smanettoni ma prima di andare sul banco a vedere di cosa si tratta vorrei definire un attimino chi è lo smanettone allora lo smanettone sono io ma molti altri come me cioè praticamente è colui che quando un oggetto si guasta o quando un oggetto non soddisfa pienamente gli ballena per la mente l'idea di poterlo o riaggiustare o modificare per adattarlo di più alle sue esigenze ovviamente almeno nel mio caso io non sono così incosciente da mettermi in testa di smontare modificare o riparare un oggetto che so di non poter riparare di cui non conosco per niente il funzionamento per esempio se mi si rompe un televisore non mi passa nemmeno per la mente di provare a ripararlo da solo lo porto al laboratorio di assistenza se vale la pena di ripararlo se no lo butto via ecco ma per esempio voi avete visto nel caso del filmato di quel mirofono acquistato sul Temu Lavalier che funzionava male ecco lì insomma diciamo ci ho voluto provare perché ritenevo di essere all'altezza di poter fare dei tentativi in effetti ci ho provato ma purtroppo per altri motivi non dipendenti dalla mia volontà quel microfono lì non ha comunque funzionato come io speravo che funzionasse adesso entriamo nel vivo dell'argomento dunque ci avete fatto caso che già da un bel po di tempo tutti quelli che sono i contenitori diciamo le scatole di varia forma che contengano oggetti tecnologici e non tecnologici praticamente per essere chiusi sono di solito composti da due parti all'interno delle quali ci stanno tutti i componenti dell'oggetto sono chiusi non più con le viti ma sempre più spesso sono contenitori diciamo scatole ok chiuse a incastro in alcuni casi sono termosaldate e a quel punto non vi azzardate nemmeno a provare ad aprirle perché le distruggete sicuramente in altri casi sono sempre saldate a ultrasuoni anche lì è un tipo di chiusura che assolutamente non è possibile diciamo rimuovere perché praticamente il materiale plastico è come se fosse un pezzo unico saldato ok e invece nella maggior parte dei casi le chiusure sono a incastro vi faccio un esempio pratico quel famoso microfono che vi ho fatto vedere in un filmato di un po di tempo fa che ho aperto era chiuso senza viti ma a incastro se prendete uno smartphone ok vedrete esternamente non ci sono viti ma in realtà lo smartphone è chiuso a incastro cioè praticamente le aziende produttrici utilizzano questo tipo di chiusura che alcune volte è semplicemente a scatto ok con delle linguettine semplici altre volte è un po più complessa ci sono delle linguette e degli agganci sulla parte opposta del contenitore utilizzano questo sistema perché prima di tutto comporta dei notevoli risparmi sui tempi di assemblaggio perché chi assembra il prodotto una volta che ha messo tutti i pezzi all'interno non fa altro che prendere premere la parte superiore la parte inferiore dell'involucro e l'involucro si chiude a scatto non c'è bisogno di viti secondo perché questo tipo di chiusura spesso spesso scoraggia gli eventuali appunto smanettoni come me dall'aprire l'oggetto vedano un oggetto chiuso senza viti e i più delle volte per paura di distruggerlo lasciano perdere io non lascio perdere io ho adesso qui sul banco una serie di attrezzi che serve proprio per aprire oggetti che apparentemente sembra che non si possano aprire andiamo sul banco a vederli buona visione eccoci sul banco allora prima di incominciare a vedere gli oggetti uno ad uno voglio declinare ogni responsabilità riguardo allo smontaggio di qualunque cosa con questi attrezzi non mi assumo nessuna responsabilità che non vi venga in mente di fare e di utilizzare questi oggetti se non sapete bene cosa fare e come fare ok anche lo smontaggio di un semplice smartphone per l'altrettanto semplice sostituzione della batteria in realtà è semplice solo se sapete bene come fare perché altrimenti spaccate tutto buttate via tutto per cui attenzione questa è robetta che costa poco ma che può fare dei grossi danni ve l'ho detto allora iniziamo a guardare gli oggetti cominciando da quelli che io utilizzo più spesso queste sono due lamelle in acciaio inossidabile resistentissime che forse si intuisce c'è qualche piccola piega e qualche piccola deformazione hanno un certo spessore sono abbastanza rigide ma comunque sono sempre flessibili queste sono due lamelle io ho comprato anni e anni fa su ebay si trovano come vedete hanno diverse gradazioni sono diciamo graduate a seconda della della sigla che ci ha riportato sopra hanno varie gradazioni di durezza sono più o meno spesse queste lamelle io le uso praticamente per aprire tutto e non solo per aprire soprattutto per rimuovere rimuovere io spesso ho il vizio di appiccicare degli oggetti tipo per esempio delle piccole torce led con del bi adesivo ecco quando si arriva a togliere il bi adesivo sia su una superficie plastica che su una superficie legno di solito si incontra le difficoltà con queste lamelle assolutamente l'operazione è veramente molto semplice quindi da stare un po attenti perché le lamelle sono anche un po taglienti per cui a seconda di come si usano possano provocare anche dei danni lo stesso vale per aprire degli oggetti come appunto quel famoso microfono che non si aprivano con queste lamelle il microfono si è aperto subito la lamella ha lasciato qualche segno ma l'oggetto si è aperto senza rompersi per cui queste sono due classiche lamelle che vengono vendute come tool per la manutenzione dei telefoni ma in realtà servano per moltissimi altri scopi questa è un'altra alternativa alle lamelle che abbiamo visto prima diciamo un po più comoda un po più costosa ma anche un po più comoda perché come vedete anche questa è dotata di una lamella da un lato abbastanza rigida praticamente come quelle che abbiamo visto prima di una lamella con una forma diversa dall'altro lato ok sempre per aprire per scalzare o per rimuovere adesivi o roba varia però indubbiamente l'oggetto si impugna molto meglio perché ha un'impugnatura di gomma per cui diciamo è un po più comodo come impugnatura tenete presente però costa quasi il doppio rispetto a quelli che vi ho fatto vedere prima qui abbiamo un'altra variante di lamella che io ancora non ho mai usato questa notate è a uno spessore di un decimo di millimetro per cui è sottilissima difatti vedete è flessibilissima ovviamente è chiaro che questa lamella non può sostenere lo stesso sforzo che si sostiene con le altre vi ho fatto vedere perché chiaramente si piegherebbe irrimediabilmente cioè si deformerebbe non tornerebbe più al suo posto questa lamella viene venduta per eseguire operazioni particolarmente delicate per esempio per rimuovere lo schermo di un telefono è fatto in modo tale da poter essere piano piano inserita al di sotto della superficie dello schermo e è talmente sottile che non lo danneggia si piega bene si flette bene e con questa piano piano con grande pazienza si riesce a rimuovere il display di un telefono esiste ancora un'altra tipologia di strumenti di rimozione ancora più delicata vedete queste sono è un pacchettino non mi ricordo nemmeno dove l'ho comprato mi pare su aliex pagato neanche un euro è una serie di diciamo così biglietti da visita ok in materiale plastico se vedete questo è anche vedete qui c'è dei segni di colla l'ho usato per scollare un pezzo ok questi sono praticamente degli sottilissimi e diciamo pannellini in materiale plastico e anche questi sono molto molto flessibili e si insinuano bene ok sotto alle superfici cioè tra una superficie è un'altra per cui anche questi servono per rimuovere in particolare questi credo siano stati ideati per rimuovere l'adesivo che blocca le batterie dello smartphone perché sapete gli smartphone adesso le batterie teoricamente non sono sostituibili ma in realtà aprendo lo smartphone sapendo come si apre lo smartphone all'interno c'è la batteria e può essere chiaramente cambiata però la batteria è incollata con un biadesivo allora per rimuovere quel biadesivo senza danneggiare né la batteria che potrebbe anche scoppiare né lo chassis interno dello smartphone ecco che si usano questi diciamo foglietti in materiale plastico che ha una minima rigidità e che riesce a insinuarsi tra la batteria e lo chassis del telefono togliendo la colla del biadesivo senza fare alcun danno ovviamente se avete il coraggio se siete in grado di sostituire le batterie del vostro smartphone avrete bisogno anche di queste piccole striscioline di biadesivo da rimettere sotto alla batteria nuova vabbè ma questa è diciamo è un tipo di operazione che io sconsiglio di fare se non si è perfettamente consapevoli di quello che si sta facendo ci sono molte guide su youtube per cui se avete un vecchio smartphone a cui non tenete per niente e vi volete divertire a provare beh potete provare non fatelo sul vostro smartphone diciamo quello che usate principalmente perché potreste veramente buttare via tutto altra serie molto interessante di attrezzini che funzionano un po' sullo stesso principio vedete sono dei tubetti in metallo con applicate a pressione delle lamine molto sottili di acciaio sottili e flessibili ecco questi strumentini vengono venduti su aliexpress non mi ricordo il prezzo ma anche qui si tratta di un euro o poco più e sono strumenti che loro indicano come strumenti da utilizzare sui circuiti stampati per esempio se dovete rimuovere qualche componente su un circuito stampato voi con questi strumentini che hanno varie diciamo varie dimensioni varie misure e forme siete in grado di insinuarvi al di sotto del componente e magari dall'altra parte ogni saldatore scaldate le saldature e con questo oggetto lo potete sollevare oppure potete agganciare qualcosa per estrarlo ma insomma anche questi sono oggettini molto molto utili e chiaramente questi però sono dedicati più che altro al settore dell'elettronica altra tipologia di attrezzini estremamente economici e questi servono sia in elettronica che nella riparazione degli smartphone che anche in orologeria sono questi specie di pennini in materiale plastico duro sono molto appuntiti da questa parte hanno invece una parte fatta tipo spatola questi servono praticamente per aprire quei piccoli quei piccoli connettori che troviamo all'interno degli smartphone ma non solo quelli degli smartphone anche altri tipi di connettori che possiamo trovare diciamo in ambito di elettronica sono dei connettori piccoli che con le mani non si riescono a prendere invece con questi oggettini si riesce a fare leva e ad aprire i connettori e questi servono appunto per questo scopo qui anche questi costano veramente pochissimo si parla di un euro o due e li vendono sempre a pacchetti dove ce ne sono parecchi perché chiaramente sono soggetti poi a spuntarsi una volta si sono spuntati li possiamo eventualmente riaffilare per un paio di volte però dopo si buttano via allora come avete visto vi ho fatto vedere una serie di attrezzi non proprio usuali è un po particolari che io però utilizzo sono attrezzi che costano pochissimo li trovate su aliexpress li trovate su temo anche credo li trovate su ebay costano un po di più su ebay li trovate anche su amazon però se li comprate su amazon li pagate il doppio ok per cui insomma magari è pensateci un po ecco prima di comprare su amazon allora servano tutti i giorni queste attrezzi sicuramente no però io sono dell'idea e quando uno diciamo ama fare certe cose da da sé o perlomeno si si piace diciamo ingegnarsi nel fare certe cose spendere quei cinque sei sette otto euro che si potrà spendere per comprare tutti questi aggeggini secondo me è sempre una cosa positiva perché non state pur certi che capiterà sempre l'occasione in cui uno dice porca miseria vedi ci voleva che l'aggeggino lì che non ce l'ho non l'ho comprato e allora magari uno che fa lo compra su amazon e lo paga tre volte mentre invece se uno con calma si fa una piccola diciamo cassettina degli attrezzi un po particolari senza fretta su altri siti cinesi dove costano meno ecco con due spicciole veramente uno riesce a farsi un discre una discreta dotazione di utensili molto particolari dico la verità molto 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 particolari comunque ragazzi gli ho fatto vedere una delle mie ennesime fissazioni mi spero che il filmato vi sia piaciuto se volete vi potete iscrivere al mio canale sulla piattaforma odissee e mi fate sicuramente piacere niente vi do appuntamento al prossimo filmato non so di che cosa parlerà forse avrò il coraggio di parlarvi di questa mega patacca ma non ne sono ben certo ancora e forse preferirò tralasciare l'argomento e vedremo un po insomma via sarà un filmato a sorpresa ragazzi di nuovo buon ferragosto e al prossimo filmato ciao ciao